Sono Marco Serralunga, mi sono stato regato alla Serralunga, azienda di Biella del 1825. Mi occupo della strategia, della direzione strategica della mia azienda e della scelta dei progetti e dei prodotti di quello che è la nuova linea. In giro ho visto dei progetti molto interessanti anche dagli altri, dei miei amici colleghi. Sono prodotti molto belli, nella maggioranza dei casi molto più realistici, molto più usabili, molto più concreti. Fuori salone forse l'unico problema è la logistica e forse concentrare un po' più per temi quello che potrebbero essere le varie aree. Una zona tortona è stupenda ma magari uno deve andare a cercare le cose un po' dispersivo, non ha tempo. Soprattutto l'imprenditore che magari lavora in fiera tutto il giorno qua. Magari fosse divisa per argomenti operare sarebbe forse un aiuto per chi ha meno tempo. È stupenda così con me ma sarebbe un aiuto.